Si chiama La tua salute sempre aggiornata e disponibile la campagna della regione toscana con spot radiofonici e video proiettati nelle sale cinematografiche, locandine e volantini avviata per far conoscere il nuovo fascicolo sanitario elettronico, aggiornato e potenziato che contiene in formato digitale, referti, vaccinazioni effettuate, ricoveri e ricette elettroniche. Per accedere al fascicolo sanitario elettronico occorre attivare la tessera sanitaria e si può fare tramite lettore attaccato al pc di casa con le credenziali speed o con l'app per smartphone e tablet. La campagna di informazione che stiamo facendo è per sensibilizzare le persone non solo ad attivarlo ma anche utilizzarlo. Molti hanno attivato il fascicolo sanitario elettronico ma non tutti, pochi sanno usarlo e conoscono le potenzialità che questo strumento può avere per davvero avere a disposizione propria o del proprio medico curante tanti dati senza la necessità di portarsi dietro carte o elenchi medicinali. Al fascicolo sanitario elettronico è stato dedicato un nuovo e aggiornato sito web della regione toscana e la app a cui si può accedere con il codice stampato nei punto sì è stata poi arricchita di tre funzioni per le ricette specialistiche, le lettere di dimissione ospedaliera e per la gestione del consenso alla consultazione da parte di terzi e recupero dei dati dal telefonino. E oggi facciamo vedere come anche i medici stessi possono accedere direttamente dal portale e andare a consultare gli esami. Questo può anche essere una fonte di possibile risparmio perché si evita i ripetersi di alcuni esami. Attraverso l'app si può avere accesso in modo sicuro anche ai dati sanitari dei familiari sul fascicolo sanitario elettronico.